ci sono restyling che rinfrescano un'auto e poi quelli che la stravolgono lo so potrebbe non sembrare ma la jaguar e pace del 2021 fa parte di questa seconda categoria perché cambia persino la piattaforma che adesso può ospitare dei powertrain elettrificati come il plug-in di questa prova vediamo perché comprarla e perché no fuori com'è il cucciolo di casa jaguar nonostante l'evoluzione sotto pelle resta fedele all'impostazione stilistica che aveva prima e che lo accumulava life type che nel frattempo invece ha nuovi connotati cambiano un bel po di dettagli quello sì la parte laterale inferiore del paraurti anteriore completamente rivista mentre i gruppi ottici hanno una nuova struttura e quando suona matrici di led hanno una doppia firma a j sovrapposta anche dietro è la parte interna dei gruppi ottici a cambiare lo spariscono invece i vari easter egg come il cucciolo alla base dell'unotto o nell'illuminazione sottoporta le personalizzazioni contano su ben 21 colori cerchi da 17 a 21 pollici e tantissime combinazioni tra pacchetti e inserti e dentro sarà anche il cucciolo del branco ma se si parla di capacità di carico l'ipace sa tirare fuori gli artigli prima di tutto la moquette è di alta qualità lo si percepisce subito al tatto poi le forme sono regolari e la soglia è a filo col piano di carico sotto il pavimento c'è uno spazio sfruttabile magari per i cavi di ricarica peccato che la cappelliera non ci stia venendo ai tanti e pratici dettagli ci sono dei ganci per la rete elastica una presa 12 volt un utile gancio per le buste della spesa una fascia elastica e un vano con rete abbassabile se serve spazio in larghezza i sedili si abbattono con i comandi sullo schienale e la ripartizione è in 40 20 40 con un piano pressoché piatto l'accesso dietro è sufficientemente ampio per consentire un facile ingresso buono lo spazio per la testa anche per chi come me è alto oltre un metro e 90 per la ginocchia lo stesso è più che sufficiente chi sia dal centro fa i conti con una seduta rigida e sagomata che dimostra di essere stata pensata per brevi tratti sulla console centrale ci sono le bocchette per l'aria e una sola presa 12 volte ma volendo se ne possono avere altre è fatta bene l'abitacolo è un mix tra elementi ripresi dalla i pace e altri del tutto nuovi restano la posizione di guida avvolgente poi questo bel maniglione per il passeggero mentre sono del tutto nuovi la forma della leva del cambio automatico il volante con i tasti a sfioramento e poi tutto il comparto dell'infotainment l'impostazione generale e fedele a se stessa molto bene per esempio che la climatizzazione sia rimasta fisica sempre a portata di mano e con un bel senso premium dato dai comandi circolari con display interno un senso che poi prosegue con la sofficità del cielo con i rivestimenti morbidi sulla parte alta e centrale della plancia così come sui pannelli porta il tunnel centrale invece è in plastica dura davanti al cambio c'è una vaschetta che può essere ad induzione per la ricarica wireless e poi una presa 12 volt ben organizzato il cassetto anteriore perché oltre alla mochette interna anche un portapenne e un portatessere la mochette è anche dentro al vano centrale con due prese usb che diventa enorme e sfruttabile se si rimuove il portavicchieri il bracciolo però non è regolabile in altezza l'avremmo voluto considerando la natura da viaggetrice dell'iPace come funziona l'infotainment il generoso display centrale consente una ripartizione della home i cui settori sono personalizzabili in questo modo le informazioni mostrate sono tante e comunque ben organizzate molto bello poi l'effetto del vetro ricurvo per contro il secondo livello del menu è più confusionario con tante icone ravvicinate tra le quali serve un po di tempo per orientarsi chiare le informazioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia e della ricarica il modulo di navigazione è valido e tra i tanti punti di interesse che mostra ci sono anche le colonie di ricarica non mancano poi nemmeno android auto ed apple carplay e ci sono tante altre funzioni aggiuntive come il wifi di bordo sulla versione in prova il quadro strumenti non è completamente digitale al contrario può raggiungere i 12,3 pollici è chiaro e completo ma non convince la logica di utilizzo macchinosa attraverso i tasti sulla razza sinistra del volante se ho dei bambini l'apertura dietro è ampia ma bisognerà prima ricordarsi di rimuovere i tappeti degli attacchi isofix che sono facili da perdere fatto questo complice l'altezza da terra mettere in sicurezza il seggiolino è molto facile dietro ai sedili ci sono due reti elastiche e i finestrini scendono quasi del tutto ma niente cateri frangenti interni alle portiere nessun problema infine per il nostro passeggino pieghevole com'è da guidare come ho anticipato sto guidando la versione plug-in della ipace quindi quella ibrida ricaricabile da una presa di corrente il suo powertrain è costituito da un motore a benzina 3 cilindri 1500 da 200 cavalli e poi da un motore elettrico per un totale di 309 cavalli e 540 newton metro di coppia massima che danno alla ipace plug-in il primato nello 0-100 rispetto a tutte le altre versioni della gamma ci vogliono soltanto 6 secondi 5 in più con il motore elettrico posizionato sulla sale posteriore la trazione è integrale e con la gestione elettronica della coppia tra avantreno e retrotreno in curva la ipace ha un comportamento molto molto valido ha un'elevata tenuta di strada il grip è tanto e poi ancora non si corica di lato e il rollio è ben smorzato da questo punto di vista fa la sua parte anche lo sterzo che si è piuttosto filtrato ma comunque rapido e preciso e anche molto leggero in manovra quindi ci si fa amicizia subito e volentieri la ipace insomma scivola tra le curve che è un piacere grazie alla sua erogazione veloce corposa lineare e poi al baricentro che è ribassato grazie all'integrazione del pacco batteria da 15 kilowattora nel pavimento il limite piuttosto è rappresentato dal peso sul misto stretto veloce perché parliamo di circa 2100 kg che si fanno sentire nei cambi di direzione più rapidi oppure quando bisogna calcolare gli spazi di frenata il cambio automatico è un otto rapporti che si può usare sia in modalità sport che attraverso i pad al volante ma in generale la sua taratura è più votata al comfort che alla rapidità di cambiata a proposito ci sono varie modalità di guida tra cui scegliere quelle classiche eco comfort per la città oppure dynamic o ancora le modalità per il powertrain elettrificato nello specifico e quindi la guida 100% elettrica quella ibrida oppure la modalità save per conservare una determinata carica della batteria la visibilità è abbastanza buona diciamo che i montanti anteriori si allargano alla base ma più in generale la superficie vetrata non è tanto estesa il lunotto è risicato ma comunque sono ottime di altissimo livello le telecamere perimetrali con ricostruzione 3d con i cerchi da 18 pollici in prova lo subimento è buono però personalmente penso che con questi pneumatici 255 con spalla 60 la e pace non sia valorizzata da un punto di vista estetico e allora opterei per quelli da 19 o da 20 potendo però con il controllo elettronico dell'assetto per evitare che poi diventi troppo rigido buona l'insonorizzazione per quanto riguarda i frusci aerodinamici mentre il tre cilindri quando è acceso si fa sentire quanto consuma a batteria carica in modalità elettrica si possono percorrere circa 50 chilometri e il consumo medio nel caso lavoro tra città ed extraurbano è di circa 28 kilowattora per 100 chilometri a batteria scarica si fanno circa 14 chilometri al litro in città 10 chilometri e mezzo in autostrada e in extraurbano oltre 12,5 chilometri al litro come si ricarica la capacità della batteria agli ioni di litio è di 15 kilowattora e il limite di capacità di assorbimento di 7,4 kilowatt in corrente alternata ma la e pace è tra le poche ad offrire anche la ricarica fino a 50 kilowatt in corrente continua nella sua categoria prendiamo il caso di una ricarica completa a casa con un contatore elettrico da 3 kilowatt si tratta di un valore che però non viene dedicato solo all'auto ma anche agli elettrodomestici quindi il tempo richiesto per una ricarica dallo 0 al 100% è di circa 6 ore e mezza collegandosi ad una normale presa tipica domestica da 2,3 kilowatt facendo invece un upgrade dell'impianto domestico a 6 kilowatt e passando da una wallbox che tipicamente assorbe 4,5 kilowatt servono circa 3 ore e 10 con un ulteriore incremento della potenza del contatore di casa oppure collegandosi a delle colonine pubbliche corrente alternata si possono sfruttare tutti i 7,4 kilowatt di potenza del caricatore di bordo per riempire la batteria da 0 al 100% in circa due ore sfruttando invece la ricarica corrente continua servono 18 minuti e la sicurezza prima dell'aggiornamento l'euro in cappa ha segnato alla e pace le 5 stelle nei crash test la dotazione di dispositivi di ausilio alla guida va ampliata a parte per esempio sulla versione che sto guidando io ho solamente diciamo così il riconoscimento dei segnali stradali il mantenitore attivo di corsia che mi è piaciuto molto nella sua taratura di intervento perché impartisce sullo sterzo dei comandi che sono molto decisi quindi trasmetto un bel senso di sicurezza ma allo stesso tempo naturali e poi il cruise control che non è di tipo adattivo ma che si aziona facilmente con i tasti sulla razza destra del volante la dotazione va ampliata a parte dicevo per quanto riguarda i dispositivi più avanzati così come per i fari a matrice di led ecco però su un'auto di questo calibro perlomeno il semplice meccanismo di automatismo tra abbagliante e un abbagliante l'avrei voluto di serie quanto costa si parte da 39.750 euro per il 2000 turbo diesel con cambio manuale e trazione anteriore per passare al mild hybrid 4x4 con l'automatico e allo step di potenza successivo da 200 cavalli servono rispettivamente 45.000 e 48.000 euro il 1300 turbo benzina tre cilindri da 160 cavalli parte da 40.000 euro costa 45.000 con 200 cavalli e arriva a 49.500 con la potenza più alta di 250 cavalli a parità di motorizzazione salendolo tra le tre versioni disponibili il prezzo può salire di 10.000 euro ma poi ci sono i vari allestimenti la più sportiva 300 sport col 24 cilindri da 300 cavalli parte da 66.500 euro la plug in invece da 58.700 euro ma quella che avete visto ne costa 62.000 accessori consigliati ce ne sono tanti forse persino troppi in base agli allestimenti ad esempio il portellone elettrico può costare circa 500 euro stessa cifra che serve per l'accesso keyless o per il wifi di bordo la ricarica wireless costa 359 euro 200 euro invece le prese di ricarica aggiuntive dietro i fire a matrice di led da 900 oltre 1300 euro in base alla versione il driver assist con i dispositivi adas costa 1300 euro ma resta fuori il blind spot a 460 euro le sospensioni a controllo elettronico infine costano 1500 euro circa difetti l'avete capito la dotazione è da completare attraverso il complesso universo di allestimenti accessori e pacchetti ma molte cose su un'auto di questa categoria e questo prezzo dovrebbero essere già di serie i tasti sul volante non sono sempre precisi e anche per questo il computer di bordo rischia di far distrarre non è intuitivo da usare ancor più in movimento fastidiosa la mancanza delle maniglie sul tetto che sui medi o lunghi viaggi fanno la differenza e infine i più alti potrebbero aver bisogno di diverso tempo prima di trovare una posizione di guida che gli permetta di non sbattere il ginocchio destro sulla console quali sono le alternative la e pace è nata per dare del filo da torcere a quelle che poi effettivamente sono diventate le sue rivali dirette perciò audi q3 mercedes gla bmw x1 e volvo xc 40 tutte queste si possono avere anche plug in ma la jaguar dalla sua ha il vantaggio di essere la più compatta ma se la linea e la classe di una jaguar appunto a tentarvi ma volete alzare non tanto i centimetri da terra quanto il feeling di guida allora fate un pensierino sulla xe con uno stile che funziona molto bene e contenuti tecnologici di primo ordine la e pace rappresenta la scelta premium per coloro che vogliono qualcosa di più ricercato e magari personalizzabile occhio però per renderle giustizia c'è tanto da dover pagare a parte